Ops, avete visto raga, a parte si apre la porta, e niente, vai dallo spazio. Ok raga, e niente, mi hanno preso a lavorare in metro, e intanzi, ho cominciato stasera, che vi voglio dire, comunque se sei un leghista razzista di merda, è meglio che torni a queste pandeggiaminchia, che non te volemo qua. Il gastrite e il fruice clan, è per la parità dei diritti, e vogliamo bene a tutti, tranne i razzisti, siamo razzisti chi è stupidi, e coi razzisti come dice un amichetto mio, anzi il fratello di un amichetto mio. Mi piace ricasta, sta super diretta in metro, mi sentite? Tiè, controllo delle camere di sicurezza, ma non sono snitch, che ne dite voi, vecchi trucchi. Quando arrivi in stazione, devi spizzare dallo specchietto, perché potresti avere brutte sorprese. Mi è tutto a posto, mi raccomando raga, non lo rifate a casa. Oh Luca, grande, tu che? Vabbè, però semmai vi dovesse finire di farlo, date una controllata allo specchietto, perché se te ritrovi il vigilante, poi stai e pensa che volevi fare. Non puoi capire, un po' di poesia romantica, e uno vale piano a me, non è frontale, non vuole mettere nebo, non vabbè, la poesia non è per tutti, ovviamente. Sto Whatsapp Tuntun non è per niente poesia, devo dire, vabbè, non è vero, solo per voi. Che dite raga? Qua mi gira? Wow, bella raga, grandi. Ahah, vi voglio bene. Non si sa mai quando vuoi uscire, disse, su Spotify, l'hiamo messo giovedì, mi pare, potrebbe essere... Non è che mi sento meglio degli altri e non voglio pagare il biglietto, è che già ho fatto il biglietto, devo uscire a fare una cosa, ma ora non ne posso fare un altro. Giusto? Siete d'accordo con me? O no? Siete d'accordo.